Siamo qui con il presidente Giuseppe Malinconico. Presidente, quale ambizione avete per questa nuova stagione? Buonasera a tutti, ringrazio Mario per seguire ancora il Real San Genello. Le nostre ambizioni sono cambiate rispetto al scorso anno. La prima cosa è divertirci, perché il calcio deve essere un passatempo dopo una giornata di lavoro. Dobbiamo divertirci. Poi di certo non vogliamo sfigurare, perché abbiamo costruito una rosa all'altezza, tantissimi giocatori di categorie superiori, quindi vogliamo ben figurare. Vogliamo comunque cercare di essere lì, nei primi 7-8 posti, poi se verrà qualcosa di più, intanto da riguadagnare. Siamo al secondo giorno di allenamento. Secondo lei come sta andando questa giornata, questi giorni? La squadra la vedo già carica, il mister sta facendo delle cose nuove per stimolare i ragazzi, per dare un piglio in più, per farli sempre migliorare. Ci sono tantissimi giocatori che non vedevano l'ora di ricominciare, perché comunque questa prima di tutto deve essere una grande famiglia. Come è stato il primo anno che eravamo tutti uniti, per un solo obiettivo, quest'anno vogliamo e dovrebbe essere così, perché abbiamo costruito una squadra di giocatori che vogliono prima il bene della maglia e poi se verrà anche personalmente. È soddisfatto dei nuovi acquisti e dei ritorni, ma soprattutto dei rinnovi dei giocatori della squadra? Molto soddisfatto, perché comunque abbiamo rinnovato con giocatori che amano in maniera maniacale la maglia. Poi il ritorno di tantissimi giocatori, mi viene in mente tipo Giovanni Avino, Nunzio Annunziato, il bomber della seconda categoria. Quindi vogliamo, siamo molto contenti di questi rinnovi e di queste conferme. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, sono giocatori all'altezza, giocatori che comunque già conoscevo, tipo il bomber Angelo Ciniglio, che comunque è un ragazzo di Ottaviano, quindi già lo conoscevo. Poi ha ben figurato con la maglia della Virtus, quindi siamo molto molto contenti. Una domanda un po' più particolare invece, cosa ne pensi dell'arbitraggio del nuovo anno? Spero che sia completamente differente rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto tantissime difficoltà lo scorso anno con gli alberi. Siamo stati molto sfortunati, un po' di sfortuna, un po' di... Non voglio essere... Ah, quest'anno non voglio avere, diciamo già la testa per fare la guerra con loro, perché comunque essendo una sola persona contro 22 giocatori è difficile anche per lui. Spero che almeno i risultati devono venire per merito nostro, per demerito nostro, e non per l'aiuto esterno di qualcuno, perché comunque quest'anno abbiamo assistito a cose scandalose. Sesso il nostro amico Mario lo può confermare, però dai, speriamo bene, perché ci vuole un po' di fortuna ogni tanto. Presidente, in corso suo, questa squadra dove può arrivare? In corso mio, questa squadra... Vorrei che vincisse il campionato, però ci sono tantissime squadre ben attrezzate. Sicuramente noi non lo sfiguriamo, perché comunque abbiamo giocatori all'altezza della situazione. Vorrei puntare, se si può, almeno ai play-off, perché sarebbe già un grande obiettivo per la squadra che abbiamo costruito. A livello economico non siamo nemmeno a livelli altissimi, quindi sarebbe già un grande successo. Se vuoi aggiungere qualcosa? Allora, voglio aggiungere che comunque spero che i nostri tifosi ci seguino come il primo anno, perché il primo anno qui sugli sparti del comunale facevamo due o trecento persone per una squadra di seconda categoria. È una casualità, anzi, è una rarità, perché comunque essere seguiti da tantissime persone è una cosa sensazionale. Lo scorso anno le prime partite ci seguivano, poi i risultati sono venuti a mancare ed è giusto anche che... Giusto, che è normale che la squadra, la gente si disaffezioni verso di noi. Voglio dire un'altra cosa, vi invito tutti quanti, anche a Mario, vabbè lo inviterò personalmente, al memorial per il figlio del nostro direttore generale, Antonio Malfettone, che si terrà domenica 24 settembre alle 10 qui al comunale. Vogliamo la partecipazione del popolo di San Genarello e delle zone limiti, perché comunque io non l'ho conosciuto, però per come ho sentito a dire Antonio aveva tantissimi amici, e quindi dovete accorrere per far sentire la vicinanza nei confronti del San Genarello, ma soprattutto nei confronti del direttore generale, il mitico Zio Pasquale. Amici di Sporteven, siamo qui dal campo comunale di Ottaviano, con il direttore generale Pasquale Malfettone. Signor Pasquale, avete qualche ambizione per la squadra? Io veramente voglio fare in bocca al lupo quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo avuto delle delusioni, e quest'anno mi auguro di fare un buon campionato, io insieme ai presidenti, allenatori e tutti i ragazzi che abbiamo in questo gruppo quest'anno, perché noi non possiamo fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che una squadra così buona, grossa e bella, abbiamo fatto, ci abbiamo salvato le ultime due giornate. Io mi auguro che quest'anno non succeda questo, noi abbiamo ripartito per fare bene quest'anno, grazie. Qual è il ruolo della squadra? Il ruolo della squadra è di fare bene, perché noi non vogliamo fare chiesa che, però vogliamo una bella squadra che ci diverte e gioca bene, e come ci divertiamo noi vogliamo che si divertono anche i ragazzi. Siamo qui dalla panchina dello Stato Comunale d'Ottoriano, con il nuovo direttore sportivo della squadra, del Ria San Gennerello. Direttore, come ha costruito questa squadra? Buonasera, prima di tutto, saluto tutti gli telespettatori, ringrazio l'amico Mario, io, prima di tutto, saluto il presidente, lo ringrazio insieme al mister Di Martino, per, diciamo, tra virgolette, avermi scelto per affrontare questa nuova stagione insieme. Che dire, gli obiettivi sono quelli di ben figurare, quindi è stata attrezzata una squadra, diciamo, all'altezza di disputare un campionato di prima categoria, ma io dico di arrivare almeno nei play-off. Tutto qui. Uno dei punti di forza della squadra, qual è? Beh, abbiamo allestito una squadra abbastanza completa in tutti i suoi reparti. Abbiamo due portieri ben esperti, una difesa ben organizzata, un centrocampo molto giovane, abbiamo un attacco rappresentato da Ciniglio, Angelo Ciniglio, ormai tutti lo conosciamo in questa categoria. Io scommetto su Rispoli, Giovanni Rispoli, ex San Vitaliano, un esterno molto dinamico, con un bel sinistro, scommetto su di lui per quest'anno. Siamo qui con un grande ritorno, l'amministratore delegato Michele Gammone. Michele, quando è importante l'organizzazione della squadra? Buonasera a tutti, l'organizzazione è fondamentale perché è la base di qualsiasi realtà e di qualsiasi obiettivo, di qualsiasi nuova partenza, è importante supportarla con una struttura organizzativa che permetta di raggiungere i risultati prefissati. Noi quest'anno, come anche il primo anno in cui sono stato con loro in una società con l'Università di Amministratore delegato, non ci siamo prefissati obiettivi. Il nostro obiettivo era quello di essere uniti, di divertirci e di fare bene. Questi principi verranno attuati anche quest'anno. Ok, lei è stata presente il primo anno del Rastanzionarello, dove c'è stata la grande vittoria, dei grandi momenti del Rastanzionarello. C'è ancora quell'entusiasmo presente? Sì, sono stato fortunato perché il primo anno i presidenti, Mano Inconico e Ruotolo, mi hanno avuto fortemente con loro e accettare questo ruolo per me è stata soprattutto una sfida. Io che ero lontano da qualsiasi ambiente calcistico, da qualsiasi sport, cioè li guardavo soltanto da lontano. Affrontarli con loro è stata ovviamente una bellissima esperienza, anche perché in una realtà molto giovane, in una società così giovane, eravamo forse i più giovani presenti in una seconda categoria, ci siamo tolti di tante soddisfazioni. Ovviamente sono stati fatti dei sacrifici, il tempo dedicato è stato tantissimo, però ne è valsa la pena. Anche perché abbiamo un gruppo molto unito che ci ha permesso di ottenere i risultati prefissati, i raggiunti, non prefissati, raggiunti. Come vede i giocatori della squadra, i vecchi e quello che sono rimasti e i nuovi giocatori? Sono pronti ad affrontare nuove esperienze anche in campo estraneo durante le partite. Io su questo lato mi riservo, non do né giudizi, tantomeno faccio promesse, tantomeno mi metto nelle vesti di chi ha vestito di direttore sportivo, di mister. Io mi auguro soltanto che i ragazzi si trovano bene, facciano un ottimo campionato e che portano rispetto alla maglia soprattutto, alla presidenza che permette tutto ciò, e a tutte le persone che mettono il loro tempo dietro la Real San Gennarello, soprattutto anche per i tifosi. Vuole augurare qualcosa alla squadra? Auguro alla squadra di essere una squadra serena, compatta, unita, di essere una famiglia e di portare in alto un nome che per noi, che supportiamo questo progetto, vale tanto. Un altro grande ritorno qui allo Stato Comunale, il mister Di Martino. Poche parole, gioco concreto. Queste le sue parole a fine rendimento ai ragazzi. Sì, abbiamo iniziato ieri, i ragazzi avevano un programma per il ritiro da seguire, qualcuno, come si sa, durante le vacanze si lascia un po' andare. Non li ho trovati proprio male fisicamente, stiamo iniziando a fare i primi test, diciamo che i primi test sembrano abbastanza positivi, adesso continueremo a lavorare, poi man mano arriveremo pure a lavorare sulla parte tattica. Come hai trovato la squadra? I nuovi giocatori e i ragazzi che sono rimasti, come li vede pronti per questa nuova stagione? Sì, io ho la maggior parte dei ragazzi, diciamo, sono tutti i ragazzi che abbiamo scelto io il direttore, li conosco tutti, sono persone serie, ragazzi affidabilissimi sotto tutti i punti di vista. So che mi seguiranno sicuramente, poi il campo darà i propri frutti, diciamo, i risultati, poi il campo parlerà. Sono dei ragazzi che già hanno fatto due anni qui qualcuno, qualcuno è nuovo. I ragazzi nuovi mi sembra che si siano subito affiadati col gruppo, si sono subito, mi sembra che stanno facendo già il gruppo. E speriamo che continuino così, ora è solo l'inizio, sai, è dura, diciamo, lavorare con un gruppo nuovo, soprattutto quando devi iniziare da capo. e hai un gruppo di 27-28 persone da cui gestire. E' felice di intraprendere questa nuova avventura con questa squadra? Sicuramente mi fa molto piacere essere tornato qui, anche perché i presidenti mi hanno subito richiamato dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso, negativa un po' per tutti, sia per me che per la società. Personalmente mi fa piacere essere qui, anche perché, diciamo, sarebbe anche una forma di riscatto personale, anche una forma sia mia che per i ragazzi, per cercare di fare bene quest'anno. Io sono convinto che con questa squadra riusciremo a fare un buon campionato. Gli obiettivi sono quelli minimi, la salvezza, fare un campionato tranquillo, però con il lavoro e con, diciamo, la volontà si può arrivare molto lontano, poi il campo parlerà. Lo diamo in bocca al lupo ai ragazzi? Sì, certo, un in bocca al lupo ai ragazzi, alla società che fa tanti sacrifici per noi, iniziando dal presidente Malinconico, Ruotolo, Michele, il direttore che sta vicino a noi, il signor Malfettone, i magazzinieri e tutti. Adesso è terminato l'allenamento. Un speciale saluto agli amici di Real Quality. Lei ha la parola, mister. Un in bocca al lupo agli amici di Real Quality, soprattutto a Giuseppe Eovino e a Matteo Chirchia. In bocca al lupo, ragazzi, vi raccomando, cercate di vincere. Ecco, qui il nuovo acquisto dell'Alessa Anzionarello, Giovanni Rispoli. Dove hai giocato l'anno scorso? A San Vitaliano. In promozione. Si è un esterno d'attacco, è alla maglia numero 10. Come ti senti questa maglia dietro le spalle, questo numero? No, niente in particolare. Qualsiasi numero, ogni numero fa da sé. La 10 fa sempre contento il giocatore, però il giocatore si deve vedere in mezzo al campo. No, per la maglia. Un giocatore a cui dispiri? Mertens. Cosa ti aspetti di questa nuova stagione? No, anche col Presidente, è una bella società. Io personalmente mi aspetto di fare grandi cose, sia per il Presidente che per me stesso, perché se vado bene io, va bene il Presidente, va bene tutta la squadra. Poi la squadra la vedo molto bene anche a livello, come gruppo e cose, mi piace molto, quindi a me piace anche. Penso che sia un'annata fortunata e buona, se giochiamo bene. Sei felice di essere approdato in questa squadra? Certamente, perché se non ero felice io non ci venivo proprio. Nel senso, se tanto ho preso anche, ho preso precedentemente, precauzioni anche, però a me mi hanno parlato molto bene del Presidente e della squadra, sia dal direttore sportivo e tutto. Quindi a me fa piacere tanto stare in questa squadra. Ad oggi firmeresti per i primi tre posti? Certo, i primi tre posti sono sempre importanti, anche perché ti danno una prospettiva superiore rispetto alle altre squadre. Certo, è sempre il campo che parla, non sono le squadre nei giocatori, perché vuoi tenere anche una squadra fortissima e poi il campo non parla, quindi è inutile. Andiamo avanti e vediamo. Ce la giochiamo partita per partita e poi vediamo cosa riusciamo a fare noi. Lo dedichiamo a un primo gol a Sport Event? Certamente, non c'è un problema. A me va benissimo che lo dedicarlo, anche se il primo gol si dedica sempre al Presidente e al Direttore, però il secondo si può dedicare. Va bene, grazie. Siamo qui con Giovanni Menzione, il magazziniere della squadra. Hai da dire qualcosa? Quest'anno speriamo che sia un anno buono rispetto all'anno trascorso, comunque essendo arrivato da marzo abbiamo subito un po' tante cose, però alla fine è importante che abbiamo mantenuto la categoria. Penso che l'anno scorso sia stato un anno di insegnamento da parte di tutta la società. Io sono da poco e posso dire solamente una cosa, che il Real Stanzionale è come una famiglia, penso che dobbiamo camminare tutti insieme per poter raggiungere un obiettivo che sia un buon campionato, poi se arriveranno delle vittorie ben venga. È importante essere uniti fino alla fine. Secondo te come stanno proseguendo gli allenamenti dei giocatori? Il mister Di Martino è una persona abbastanza preparata. I giocatori li vedo abbastanza motivati. La rosa è cambiata totalmente, sono rimasti 3-4 ragazzi dell'anno scorso che già hanno contribuito a una salvezza, che sono pronti a ripartire, con nuovi innesti. Alcuni sono stati già due anni fa, l'anno in cui il Real Stanzionale lo ha dominato sia in campionato con la vittoria della Coppa. Penso che la rosa sia positiva, il mister è abbastanza preparato, gli darà filo da torcere sugli allenamenti per dare un buon segnale, soprattutto fare un buon campionato. Grazie.